parliamo di chirurgia plastica lo facciamo con la dottoressa silvia di ronza ciao silvia ciao benvenuta ben trovata ai nostri microfoni allora con te oggi parleremo di chirurgia plastica ma nello specifico andremo ad affrontare due diciamo pratiche due temi la mastoplastica additiva e la blefaroplastica allora per entrambi diciamo brevemente che cosa consistono che cosa sono allora la mastoplastica additiva sarebbe l'aumento volumetrico del seno è uno degli interventi più conosciuti e più richiesti assolutamente soprattutto dagli uomini diciamo di no anche in alcuni casi no io no invece nel senso che ne cambi sesso ah beh certo sì 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 no no per carità per carità allora ovviamente all'inserimento cioè si ottiene l'aumento volumetrico del seno o con l'inserimento di protesi mammarie ok o con il cosiddetto lipofilling ossia l'aspirazione di grasso che viene centrifugato e reinserito nella nella ghiandola mammaria ovviamente questo non da risultati immediati cioè l'ipofilling devono essere più di uno mentre invece la protesi da un risultato immediatamente definitivo questo per quanto riguarda la mastoplastica la mastoplastica additiva esatto le protesi sono quelle che si usano ad oggi ovviamente ne esistono di tanti tante marche e ce ne sono di più buone e meno buone come in tutte le cose certo sono in gel di silicone ma possono essere anche in poliuretano hanno ovviamente diverse caratteristiche ovviamente al tatto sono molto morbide ed è questa la cosa fondamentale no che siano il più naturali possibili vengono inserite tramite diversi accessi o a livello con l'inserimento dal solco sottomammario o a livello periareolare o tram per via scellare diciamo che l'inserimento più frequente è quello dal solco sottomammario e dalla dalla reola dall'incisione periareolare diciamo che non c'è un periodo dell'anno ben preciso in cui può essere fatta la mastoplastica additiva può essere fatta durante tutto l'anno è ovvio che gli interventi magari fatti d'estate sono un po più fastidiosi perché comunque nel decorso post operatorio si portano dei reggiseni delle fasce che vanno tenuti almeno per un mese durante il quale uno deve stare molto attento con sollevamento di pesi sollevamento di bambini palestra ovviamente che è diciamo vietata nel primo mese perché comunque il rischio è quello che le protesi si possano spostare per cui per una cosa che comunque dovrebbe essere definitiva è ovvio che uno per un mese deve stare attento senti questo per quanto riguarda la mastoplastica esatto ok passiamo alla blefaroplastica la blefaroplastica è un altro intervento sarebbe la rimozione dell'eccesso palpebrale dalla palpebra superiore per quanto riguarda la blefaroplastica superiore e la rimozione invece dell'eccesso palpebrale nella blefaroplastica inferiore nella blefaroplastica inferiore con la rimozione delle cosiddette borze sì sì quindi questo ovviamente è trasversale uomo donna uomo donna assolutamente richiesto da entrambi i sessi sì 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 assolutamente confermo confermo e allora asportazione quindi ovviamente dell'eccesso cutaneo palpebrale superiore nella blefaroplastica superiore con l'incisione che viene nascosta dalla naturale fisiologica piega palpebrale nella blefaroplastica inferiore se c'è un eccesso di cute si rimuove la cute in eccesso altrimenti si fa un eccesso nascosto nella congiuntiva ovviamente l'effetto è un occhio molto più aperto e sì perché una caratteristica sono dando della chirurgia plastica soprattutto quella del diciamo ultima no è che diciamo abbellisce ringiovanisce la persona sotto il profilo estetico indiscutibilmente però almeno percettibile rispetto al passato nel senso che tu ti accorgi che quella persona ha un miglioramento tra virgolette non riesce identificarlo nel senso che molto più naturale rispetto a come era un lavoro eseguito nella maniera corretta appunto nel senso che tutto ciò che facciamo noi chirurghi plastici dovrebbe essere più naturale possibile certo ossia andare a migliorare l'estetica di una persona senza alterarla e senza eccedere perché l'eccesso è assolutamente anti estetico e si perché appunto la finalità è sempre estetica poi ovviamente ognuno fa quello che vuole perché poi ci sono anche richieste eccessive certo lo sappiamo lo sappiamo bene allora per quanto riguarda la mastoplastica prima abbiamo parlato di quelle che possono essere quello che può essere il decorso perché tu dicevi appunto poi le donne devono portare per un mese devono portare appunto dei reggisemi particolari che sono quelli da sport sportivi abbastanza che comprimono ovviamente devono tenere la la protesi ferma in sede e con una fascia per un mese senza sollevare pesi senza fare il ginocchio perché sennò ci possono essere delle complicanze ci potrebbero essere delle complicanze perché la protesi ovviamente si potrebbe spostare benissimo per quanto riguarda sì prego vorrei aggiungere scusami le altre complicanze ovviamente sono quelle tipiche di qualsiasi intervento chirurgico per cui infezione matoma emorragia e poi ci sono proprio delle complicanze invece specifiche della protesi mammaria ovviamente vanno sempre detta alla paziente perché è giusto che una paziente venga informata su quelle che sono le complicanze dell'intervento che andrà ad eseguire ad esempio la famosa contrattura capsulare per noi è molto famosa che sarebbe una contrazione proprio della capsula che si forma intorno alla protesi mammaria perché comunque il nostro organismo la riconosce come corpo estraneo per cui la contrattura capsulare va a modificare proprio il profilo della protesi mammaria e quando ciò succede diciamo che prima si interviene a livello farmacologico se a livello farmacologico poi la cosa non si risolve ovviamente bisogna ripetere l'intervento chirurgico. Per quanto riguarda invece la blefaroplastica quali possono essere le complicanze successivamente? La blefaroplastica può essere una cicatrice che non cade esattamente nella fibra fisiologica della palpebra per cui è una cicatrice che risulta evidente e che è assolutamente antiestetica oppure questo per la blefaroplastica superiore. Per la blefaroplastica inferiore il cosiddetto sclelar show o ectropion cioè quando diventa evidente la congiuntiva perché viene tolta troppa pelle e quindi la congiuntiva risulta evidente. Però se eseguiti da mani esperti questo non accade ve lo ve lo assicuro. Le mani esperte sono quelle di Silvia di Ronza che è contattabile dove come e quando? Allora io lavoro a Roma, Terra Cina e Belletri. Ho una pagina Facebook e tutti i giorni da lunedì alla domenica perché spesso e volentieri visito anche di domenica per andare incontro alle persone che comunque lavorano durante la settimana e mi chiedono disponibilità di domenica. Perfetto. Dottoressa Silvia di Ronza è stato un piacere. Grazie. Grazie a voi.